Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese, ritorniamo con un gradito ospite, ovvero il pastore Marco Fornerone in diretta da Roma, Chiesa Valdese di Roma. Buongiorno Marco, benvenuto, bentornato su Radio Beckwith. Buongiorno Daniela, un piacere essere il nuovo. Un piacere anche per noi. Ti abbiamo interpellato Marco perché ho letto sul vostro sito che state organizzando una mostra dedicata al tema dei diritti delle persone, dedicata proprio a una sorta di scoperta di una serie di persone, personaggi, i cui diritti sono stati lesi. La state preparando e organizzando per il prossimo anno, per il 2024, siamo quindi in una fase ancora organizzativa, però volevamo saperne di più e quindi ti chiedo come nasce questa idea e che cos'è, di cosa si tratta? Allora, l'idea nasce dalla proposta di un nostro membro di Chiesa, di una nostra membro di Chiesa che ha avuto un passato di impegno con amnesti, quindi in questo ambito dei diritti. E che ha anche, al contempo, sempre avuto un rapporto anche col mondo dell'arte, le stesse fotografa. E quindi ha avuto l'idea di, in fondo, di coniugare queste due cose che hanno anche sempre fatto parte della vita della Chiesa di Piazza Cavour. Uno dei primi gruppi amnesti qui a Roma si riuniva in passato nei nostri locali e, diciamo, l'arte, la cultura è qualcosa di molto presente. Quindi l'idea è stata di coniugare questi due aspetti lanciando, appunto, l'idea di questa mostra in cui si invitano degli artisti ad utilizzare le tecniche che preferiscono per riproporre l'immagine, appunto, di una persona ai cui diritti sono stati violati. Quindi, a partire da una foto di persone note, riproporre la pittura con altre tecniche. Con qualsiasi tecnica si preferisca, insomma, si spazia con la fantasia. E poi, appunto, le opere verranno poi esposte, quindi questo sarà, appunto, sia un momento per fruire dell'arte, ma anche per porre l'attenzione su questi temi e su queste storie. Ecco, avete posto un limite temporale, giusto perché, se no, forse sarebbe stato troppo ampio. Però, anche perché è interessante puntare un po' l'attenzione sull'attualità di questo tema, cioè i diritti che ancora, insomma, in questi ultimi decenni vengono violati. E quindi avete scelto, ecco, chiedete che siano persone che dal 2015 in avanti abbiano, appunto, avuto un problema legato a una tutela dei loro diritti, giusto? Esatto, sì, perché l'idea era proprio di collegarlo all'attualità, quindi non solo al tema in generale, che ovviamente è importantissimo, ma che le storie di cui si parla fossero storie che sono vicine e per le quali quindi la consapevolezza è ancora più importante. Certo. Può partecipare chiunque? Cioè, si possono mandare i propri disegni, ammesso di essere maggiorenni, questa è l'altra richiesta di avere almeno 18 anni, però da qualsiasi luogo d'Italia possono arrivarvi le immagini, i disegni, le opere? Sì, 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 assolutamente aperto. Bene, quindi lanciamo un appello, insomma, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Assolutamente, assolutamente, da ovunque saranno i benvenuti, sarà sicuramente interessante avere la partecipazione più vasta e più varia possibile. Vi è già arrivato qualche lavoro, Marco? Lavori non ancora, so che ci sono già stati dei primi contatti. Ok, benissimo. Di qualcuno che avrebbe intenzione. E avete in previsione quando, più o meno, insomma, di poi concretizzare la mostra? Dovrebbe poi essere nel settembre del 24. Ah, quindi c'è ancora tanto tempo. L'esposizione vera e propria. Sì, 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 siamo partiti con un ampio anticipo. Beh, però, insomma, questo permette anche così di poterlo anche pubblicizzare bene, ricordarlo davvero in modo un po' più dettagliato e puntuale. Come fare? Certo, e poi trattandosi di opere pensate proprio per l'occasione, chiaramente questo richiede di pensare un tempo più ampio, perché c'è anche proprio il tempo della realizzazione. Certo. Come fare? Se qualcuno fosse interessato, qualcuno o qualcuna fosse interessato, interessata, come si può fare? Chi può contattare? Quali sono un po' i riferimenti, i dettagli? Allora, direi che forse il posto migliore per trovare tutti i riferimenti è sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook della Chiesa di Piazza Cavour. Il sito è chiesavaldesepiazzacavour.it, più semplice di così, e su Facebook anche chiesavaldese di Piazza Cavour, e lì c'è la notizia di questa iniziativa, dove potete trovare un indirizzo apposito al quale scrivere, e già lì si possono in realtà trovare la maggior parte delle informazioni. Bene. Non dovete per forza essere, insomma, grafici, professionisti, piuttosto che artisti diplomati. la partecipazione è aperta, l'importante è che ovviamente ognuno faccia un po' propria, l'immagine scelta, la caratterizzi con la propria sensibilità e con la propria personale interpretazione. Esatto, esatto, che è il valore aggiunto che dà questo tipo di lavoro. Allora, io ti ringrazio Marco per essere stato con noi, rinnoviamo quindi l'invito a tutti coloro che ci stanno ascoltando, se volete partecipare andate a visitare il sito chiesavaldese piazzacavur.it o la pagina Facebook e guardate se può interessarvi partecipare appunto a questa mostra Arte per i diritti umani che la Chiesa Valdese di Piazza Cavour sta organizzando. Grazie ancora per essere stato con noi, buon lavoro a te ovviamente. Grazie a voi. Un saluto, buon lavoro e alla prossima occasione. Ciao. Ciao.